Claudio, raccontaci qualcosa, tu mi sembra che lo conoscessi Giorgio. Credo da oltre 40 anni, più di 40. Sono stato il primo non batterista ad essere accolto nella sua scuola, che era già conosciuta. Ricordo perfettamente la sera e l'invito ufficiale, praticamente, in un locale che adesso non esiste più a Torino, che era la Contea, lui e la moglie Gianfranca, davanti a delle birre, e lui mi ha fatto la proposta ufficiale, vuoi essere il primo insegnante non batterista, percussionista, e io ho detto, cazzo, sì, sì, molto bene, contentissimo. Ed è lì iniziata un'amicizia pazzesca per decenni, addirittura siamo diventati per diversi anni vicini di casa proprio. Proprio di pianerottolo, quindi potete immaginare. Cioè, potevano fare gli orari delle lezioni attraverso lo spioncino delle porte, giusto? Bene, bene. Ci sarebbe da dire migliaia di cose, ma mi... Faremo uno speciale, ci faremo uno speciale dove parleremo solo, ci collegheremo solo tra di noi, ci guarderemo mentre faremo le interviste, esatto. Rossella, vuoi aggiungere qualcosa? Tu hai detto già molte cose durante l'esibizione, e dici un po', e vuoi aggiungere qualcosa su Giorgio e sulla vostra collaborazione? Scusa, mi sposto nel centro, tu devi andare in là, queste sono le regole della televisione, signori. Ma sì, anch'io sono un'insegnante del Perk Studio, che non insegna batteria, ma insegna canto, e ho conosciuto Giorgio tramite Claudio, e anche io ho un bel ricordo di lui, sempre davanti a una buona birra, a un buon bicchiere di vino, a parlare di tante cose. La cosa che mi piaceva molto era ascoltarlo quando parlava di musica, mi ha nei suoi racconti insegnato molto. Soprattutto per quanto per una cantante sia importante il ritmo, non solo per farsi accompagnare, ma anche per farlo proprio con la propria voce.